Va in soffitta anche il fermo pesca del 2008. Domani alle 21.30 le imbarcazioni sanbenedettesi torneranno in mare. Un rientro costellato da polemiche e paure. In primis si teme che il caro gasolio possa mettere nuovamente in ginocchio la marineria. E in seconda istanza si ha paura che la crescente moria di cefali sia legata all'inquinamento delle acque, dannoso sia per il comparto pesca che per quello turistico. In ogni caso per domani sera alle 21.30 l'amministrazione comunale ha organizzato una festa al porto sulla banchina Malfizia per accompagnare i marinai nella ripresa della loro attività. Nel frattempo però il malcontento in zona portuale continua a serpeggiare. Si era parlato di uno stop scaglionato in Adriatico, spiega Antonio Grossi, marittimo sanbenedettese delegato di Federpesca. E alla fine ci siamo ritrovati con la solita paralisi generale della pesca che non fa altro che agevolare l'immissione sul nostro mercato dei prodotti itici provenienti dall'estero. Antonio Grossi ribadisce che questo non è il periodo più adatto per arrestare le imbarcazioni, così come denunciato la scorsa settimana dalla Confcommercio. Sul caro gasolio aggiunge che nulla è cambiato dal periodo della protesta. Il calo del prezzo del petrolio non sarebbe infatti coinciso con quello della nafta, destinato ai motopesca delle varie marinerie. È una presa in giro, prosegue Grossi, il petrolio è sceso di 35 dollari al barile, mentre il calo delle colonnine non arrivano neppure a 15 centesimi. Restando in Adriatico ma cambiando argomento, sulla moria di cefali che interessa Martinsicuro, Tortoreto e Portodascoli, stanno invece indagando l'Istituto Zoo Profilattico Abruzzese e l'Agenzia Regionale per la Tutela Ambientale. I ricercatori dovranno capire da cosa possa dipendere la strage di pesce e soprattutto se sia legata all'inquinamento delle acque. Insomma, un ritorno in mare, zeppo di polemiche, proteste e paure. Grazie a tutti.